Siamo nello stabilimento Zueg di Luogosano con il padre fondatore dell'omonimo brand Oswald Zueg. Come mai la scelta di investire in Irpinia, nel territorio irpino? Qui siamo già dall'85 e in queste zone qui nasce o cresce la frutta migliore mediterranea, questo vuol dire albicocche, pesche, anche fragole, prugne, mele e noi andiamo là dove cresce la frutta. Qual è il segreto del successo continuo di Zueg, del brand Zueg e soprattutto c'è stato quest'anno un incremento del 12%? Prima di tutto abbiamo una struttura internazionale e perciò portiamo fuori dall'Italia il modo di vedere l'alimentazione sotto il profilo della dieta mediterranea e poi abbiamo questa frutta straordinaria che si può proporre facilmente ai clienti all'estero. Nell'incontro che abbiamo appunto avuto presso il suo stabilimento parlava di un incremento occupazionale misurato, giusto, quindi non smodato, quindi attenzione alle risorse e alle piccole realtà irpine. Sì, noi abbiamo adesso iniziato già da tempo lo sviluppo di produzione agricola, di piccoli produttori agricoli con il nostro supporto. Questo vuol dire che questi qui producono in Irpinia pesche, soprattutto albicocche per la Zueg insieme con i nostri agronomi. E questo qui pian pianino diventa un tessuto molto interessante sociale dove le famiglie possono lavorare direttamente sul campo. Questo vuol dire che il nostro contributo per fare i posti di lavoro è molto più in agricoltura che non nello stabilimento. Quanto è importante la scelta delle materie prime e soprattutto le leve che Zueg da oggi nel futuro intenderà attuare? È molto semplice, tu fai solo un buon prodotto se hai una buona materia prima e se la materia prima o la frutta è eccellente hai anche un prodotto eccellente.